Al via questa mattina le attività di cura e pulizia del territorio nell'ambito della manifestazione promossa da Lega Ambiente Puliamo il Mondo. A Napoli il primo appuntamento è a Ponticelli con l'associazione Libera Campania per lo spazzamento e la piantumazione di Lantane con i volontari e gli studenti del quartiere. Nell'occasione si è tenuta la cerimonia di intitolazione dei giardini a Ciro Colonna, vittima innocente della criminalità, con lo scoprimento di un monumento alla presenza dei familiari e dell'assessore all'ambiente Raffaele del Giudice. È una giornata importante perché Puliamo il Mondo di Lega Ambiente, che ringrazio tantissimo, è dedicata a pulire il mondo dai pregiudizi. Poi ringrazio Libera, le associazioni, i consiglieri presenti, tutti, perché è stato un grande sforzo corale, tutto in onore di Ciro Colonna e della famiglia, che davvero hanno dato un grande esempio all'Italia di come hanno elaborato fortemente e trasformato questo dolore in testimonianza. In più, i ragazzi delle scuole, adesso ho fatto una visita alla scuola, si sono impegnati, questo giardino verrà adottato ulteriormente, c'è questo monumento che abbiamo fortemente voluto, che rappresenta un po' la roccia, la pietra e quella che poteva essere la vita di Ciro e quella che è la memoria di Ciro, che è molto importante. Quindi un grande giorno per tutti quanti noi.